Riva Samba e Rapallo e Riva Rolese si affrontano una settimana dall'inizio del campionato in questo terzo turno di Coppa Italia di eccellenza. Match che si apre con il gol di Elia, Zunino, cross di Grani, il numero 10, Ruentino, sfugge dai radar della difesa arancionera. Sul primo palo anticipa tutti e con una zampata vincente trafigge la porta difesa da Raffo. 1-0 dopo 12 minuti di gioco succede poco e nulla in fase di conclusione nel primo tempo per i padroni di casa unica luce oltre quella che impedisce una visuale nitida. La nostra telecamera arriva al 35esimo con la conclusione di Ivaldi, debole, che però finisce davvero di un soffio alato. Nella ripresa la punizione di Bertuccialli al 47esimo risponde al 65esimo Matteo Vottero che riesce nel primo dribbling ma poi sbatte sul muro difensivo bianconero. Rapallo rivarolese in attacco prima con Sbarra che servito da Bertuccialli arriva alla conclusione impegnando Raffo con il fischio però del direttore di gara per posizione di fuorigioco sul primo passaggio. Poi qualche giro d'orologio più tardi con la conclusione dalla distanza di De Persis che finisce ampiamente fuori bersaglio. I ruentini non concretizzano, lo fa allora il Rivasamba, 82esimo minuto nell'offensiva. Arancionera è il subentrato Tuvo, classe 1999, il più lesto di tutti, che con il destro batte da Mora e insacca la rete dell'uno pari. Esplode la gioia degli uomini di mister Cesaret, inutile la discesa solitare di Bertuccialli a qualche minuto dalla fine, inutile anche la risposta di Paterno sul ribaltamento di fronte perché finisce così. Alla vigilia del campionato pareggiano 1-1 Rivasamba e Rapallo-Rivarolese, un punto a testa per un girone di Coppa con tante partite da recuperare e una classifica ancora tutta da definire.